il piano di zona ci ha portati qua per non ha un secondo sulle politiche giovanili il piano di zona il piano di zona noto non mi ricordo il nome lui è GIP però è con le donne praticamente il piano di zona ci ha portati qua per far sapere che il piano di zona esiste lei sa cos'è il piano di zona? c'è una festa poi? sinceramente no il 9 di giugno c'è una festa, viene? non penso perché? perché sono un casalingo ormai scusa ti presento una festa la festa è una festa con il futuro buongiorno signore allora praticamente il 9 di giugno c'è una festa ma il signore qui non viene ah mi spiace cercheremo di divertirci scusi mi chiamo fate bene 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 auguro a voi i i i i i i i i Iscriviti